La Regione dà il via libera ai vaccini in farmacia. Le 250 farmaci abruzzesi in sostanza che già avevano aderito alla campagna vaccinale potranno richiedere le dosi per somministrare il secondo booster di richiamo. Il documento firmato dal Dipartimento Sanità della Regione nei giorni scorsi è stato già inviato alle associazioni Federpharma e Assofarma. Le farmacie pubbliche e private che avevano già aderito alla campagna in possesso dei requisiti potranno chiedere le dosi e procedere con i vaccini in sede con le stesse procedure di sempre. Le farmacie abruzzesi sono pronte, ora va ottimizzata la fornitura da parte delle aziende sanitarie e il presidente di Assofarma Venanzio Gizzi ha invitato tutti i farmacisti ad attivarsi anche perché ci sarà ad affrontare la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Come nel passato la procedura da seguire varia da regione a regione anche in Abruzzo la regione ha dato disposizioni perché le farmacie potessero scendere in campo e i cittadini potranno prenotarsi presso le farmacie e poi ci sarà un'organizzazione tra le farmacie e le aziende sanitarie la distribuzione dei vaccini perché il prodotto sanitario possa essere distribuito nel migliore dei mori su tutto il territorio regionale. È un'ulteriore dimostrazione del presidio farmaceutico quale essenziale e dispensabile sul territorio perché ci possa essere una salute, una distribuzione della salute di vicinato, vicino a cittadini con una professionista della salute che è il farmacista e che raccoglie la massima fiducia da parte dei cittadini. Intanto per le quarti dosi negli hub vaccinali si procede al ritmo di circa mille somministrazioni al giorno dopo una prima risposta tiepida anche nel hub vaccinale di Bazzano pare si stia procedendo meglio a livello di numeri.